Ci troviamo nello spogliatoio del Villafranca Calcio dopo la partita della Juniors, brillantemente vinta 7-0 con in parietà del Sona. Sentiamo Capitan Mutti un commento a questa ultima impresa del Villafranca. Beh innanzitutto direi che la squadra è scesa in campo con la mentalità giusta che ci ha permesso di imporre il nostro gioco. Si è capito subito dai primi minuti, infatti siamo riusciti a finalizzare la prima o seconda azione con un gol di Bellesini. Dopodiché abbiamo cercato di mantenere possesso palla e finalizzare qualsiasi azione. Dietro siamo riusciti a mantenere il possesso facendo giro palla, comunque a rispingere i lanci avversari. In centro campo abbiamo tenuto anche, insomma, eravamo il numero maggiore che ci ha permesso di mantenere il possesso. Gli errori sono stati minimi, come ripeto la mentalità giusta ci ha permesso di imporre il nostro gioco e vincere. Molto bene, ora il big match di sabato, quel posto nuovo, cosa pensi? Andiamo con molta fiducia dopo questo risultato? Sì, la fiducia c'è, però non c'è da rilassarsi perché comunque è una partita importante per gli esiti del campionato. C'è da prepararla bene questa sfida negli allenamenti durante la settimana e la mentalità deve rimanere la stessa. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie Crepi.